C'è il capo mio che mi ha invitato a giocare a golf sabato prossimo dice gli farebbe piacere se venissi anche tu Se manco mi conosce Vabbè appunto è l'occasione per conoscersi Io però non so giocare No ma quello non ti devi preoccupare stiamo su sto prato verde si cammina, si sta insieme Senti prendi questa segna Mettipolo nel cruscotto che non mi fate portarlo in giro è per il WPF io e mamma stiamo cercando di salvare un isolotto dove vivono sei canuri Ma che cazzo sono i canuri? è una specie di fuoco in via d'estinzione che vive alle Galapagos 70.000 euro per i canuri? 70.000 euro è una cosa che ti strappa il cuore mamma è entrata in fissa con la beneficenza ma è un tesoro un tesoro Che è? è la macchina, la macchina che si ribella